A Sant'Arsenio sarà istituito il servizio di telesoccorso in via continuativa H24. Lo comunicano mediante avviso pubblico il sindaco Donato Pica e la consigliera delegata ai servizi sociali Rosanna Pistone. È un servizio socio-sanitario pensato per le persone anziane, portatori di handicap, chi vive in contesti isolati, chi si trovi in una condizione di emergenza e abbia bisogno di assistenza a bario titolo. Per poterne usufruire chi ariscono dal Comune è necessario installare in casa una specifica attrezzatura fissa che costa 200 euro. Poi si dovrà pagare un canone mensile che è di 30 euro. Il Comune valuterà le singole situazioni, se è sulla base delle quali contribuirà alle spese da sostenere. È una forma di assistenza telefonica disponibile 24 ore su 24. Attraverso un apposito apparecchio si può lanciare un allarme in caso di necessità, un malore o un incidente domestico, ma anche in caso di rumori sospetti o sconosciuti che bussano alla porta. E la centrale operativa collegata assicurano una risposta di aiuto tempestiva. L'intendo del Comune di Sant'Arsenio è di porsi a difesa soprattutto delle fasce deboli, garantendo agli anziani e ai disabili di mantenere una loro indipendenza e alle famiglie coinvolte una certa serenità. Chiunque sia interessato al servizio può farne richiesta all'ufficio protocollo dell'ente entro il prossimo 13 marzo.